Non poteva non dare l'ultimo addio sui social. Uomini e donne si stringe al lutto del suo ex tronista Un volto che nessuno può dimenticare quello dell'ex tronista. Ecco qual è stato il suo dramma Un lutto che indirettamente ha investito, anche il programma Uomini e donne. Il programma di Maria De Filippi ha reso famoso l'ex tronista che ha vissuto il dramma della perdita Stiamo parlando di Manuel Vallicella che tutti ricorderanno per il ruolo da tronista nel noto programma pomeridiano Lutto per Mnau e Vallicella e Uomini e donne.È stato sicuramente uno dei tronisti di Uomini e Donne più amati Manuela Vallicella Maria De Filippi, da corteggiatore diventò dopo la scelta di Ludovica Valli un tronista tra l'altro anche molto corteggiato Purtroppo Manuel, ha reso noto sui social della sua grave perdita.L'ex tronista ha dovuto dire addio alla mamma scomparsa poche ore fa Il messaggio commosso ha sciolto il web. Non si sa ancora quando sia accaduto ma, quel che è certo è che la cara mamma di Manuel purtroppo è volata in cielo Vallicella le ha augurato di fare un buon viaggio da dolce e bravo figlio.Vallicella, e il triste addio sui social Grazie all'esperienza ad Uomini e Donne, Manuel è diventato un modello noto a livello nazionale Già al tempo della sua permanenza nel programma, era noto che la madre era da molto tempo ammalata Un legame, il loro, unico e speciale.È stato proprio lui a dare il triste annuncio sui social dal suo profilo Instagram L'ultima foto con la sua mamma è davvero tenerissima. Il ragazzo scrive 2.Fai buon viaggio amore mio Parole che hanno commosso tutti i fan di Vallicella In pochissimi minuti, infatti, tanti sono i like e i commenti arrivati per mostrare un piccolissimo segno di solidarietà all'ex corteggiatore di Ludovica Valli Ovviamente, in questi casi niente può consolare, ma sicuramente sapere si idea e avere così tante persone accanto può aiutare . Manuel ha sempre dimostrato di essere un ragazzo forte e intelligente ma anche molto sensibile, ci auguriamo che possa al più presto superare questo momento di estremo dolore Ecco la foto che l'extronista ha condiviso sui social. Tra i volti noti che hanno fatto immediatamente le condoglianze all'extronista anche quello di Francesco Chiofalo .